Salve ragazzi, prima di iniziare con il video volevo precisare che ho perso dei pezzi di video dove avevo preso il bastone, come si chiamava, il bastone meteoritico, ho preso una nuova stregoneria rock sling, no, proiezione rocciosa, rock sling, si, e ora con questo video vi mostrerò dove l'ho trovata. Il bastone meteoritico o meteorito staff l'ho trovato a high lead su un corpo che già si attraversa una finestra, sempre la high lead, e vi mostrerò la posizione. E poi il nuovo incantesimo l'ho trovato, l'ho trovato sempre a high lead, high lead come dite voi, alle rovine distrette street of sage, e vi mostrerò anche qui la locazione nel video. E volevo dirvi un'altra cosa, ho farmato tante rune, rune, ma tante tante, non vi dico come, perché online ci sono sbariate guide, per aumentare, per prendere il ruone e aumentare di livello, quindi ragazzo vuole basse con le chiacchiere, e adesso iniziamo il video vero e proprio, si inizia. Ed eccoci qua ragazzi, io sono DragonZR89, oggi continueremo con il video di Elden & Ring. Ok, e allora, ok qua c'è Melina che ci porterà della tavola rotonda, mi ricordo bene, la rocca della tavola rotonda, ok, la tavola rotonda c'era comunque. La rocca della tavola rotonda è un luogo dove convengono i senza luce, guidate dalla grazia, un paio di ragazzoni, ok. Va bene. E allora, riposo dalla tavola rotonda, no? Ok, andiamo da questo tizio, ah, sei qui. Il mio benvenuto alla rocca della tavola rotonda, mi chiamo Collymone, sono un nuovo bts. Insegno i cartesi, il potere e l'esplosione dell'ordinevole, in modo che se un giorno inizio della tavola rotonda, dovesse diventare l'ordinevole, rosso, prima i consigli, sull'animo e l'ordinevole, ecco che la piste, la propria modalità, ad ogni modo che riesci ancora a vederla, guidare la grazia, certo che lo vedo. Sì, ma che magnifica notizia. Oramai molti senza lui ci sono ciechi e la grazia, ma tu appartiene a una stil perrara. Allora, che ne dici? Voleviste prendere un incantesimo? Ma sì! E allora, ci sono variati incantesimi. Rifiuto, operazione buro vereno, fortificazione magia, fortificazione... Ma sì, li vediamo tutti, ok. E se incantere, io lo andrò, ah, orio, sprendi... Ok, ora andiamo da questo tizio. Oh, questo è un vento raro. All'altra volta, l'ora sono una cagliana, 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 una cagliana. Bene, io quanto tuo superiore ti do il per me loro. Questo è un luogo sicuro, puoi abbassare la guardia. Voglio offrire tu un consiglio, quanto e per ora sei solo una visita, una cagliana, nulla, più. Se ancora vado a tenerti la posizione, mi guardo di portare il dovuto rispetto. E questo è quanto? Faccio quello che devi fare. Questo chi è? Ah, questo... saluto a te, sei qui da poco? Vero? Hai, sono... Mi chiamo, sono... Di allors, cagliana di appartenenza, l'importanza di queste cose. Comunque, incantata una cagliana di nome, Lania, se viaggi, è al mio servizio, mai volubile come il petto. Se la perdo di vista, con solo istante, sparisce. Se dovresti trovarla, ti prego di avvisarmi... Se quanta cagliana di nome, adesso, non sei benvenuto, ma se non è la cagliana, non è la cagliana, non è la cagliana, non è la cagliana, non è la cagliana. Sei sicuro di chiedermi se è una cagliana o se è una cagliana o se è stata la mia cagliana. Ho scoperto, sinceramente. Andiamo avanti. Io so che, non credo di conoscerti. Mi chiamo Di, vado a caccia di coloro che vivono nella morte. E accolgo, ti avverto. Fai molta attenzione a coloro che vivono nella morte. Soprattutto se tra loro è presente, almeno le loro amore di rinunciare la vita. Fai molta attenzione, soprattutto. Questo non parla. Cosa vuoi? Parla, no? Ok. Inizia adesso. Tutto a volte, no, non mi importa, non fa differenza. Mostra le tue armi. Perché? Vedo che hai notato la catena. Tutto qui, se è un prigioniero o no, non fa te. Le trovo però non piace certo, spazzate da te. Questo è il momento, non è detto che mi va a capire. Alla lunga, vedete che si trova. Fai un'ottima. Ok, andiamo in questa sostanza. Ah, c'è una bella signora qua. Salve, però è due combattenti. Io sono Fia. Ah, e ne ne ho risposto, e ne ho vado, e ne ho vado, e ne ho vado. Sì, c'è, ne ho vado. Offri un barone del tentativo di guardia di coraggio. Blame il calore, non la legge come te. Ti assicuro. E' un atto salvo. C'è un'ottima. non è un bel bug asci io qui ok ce ne possiamo andare ok andiamo di qua ora ci buttiamo qua sotto un modi andiamo a vedere che c'è qua dentro se c'è qualcosa di utile speriamo l'invasione di alberic dalla lingua polla chi cazzo è sto alberic bada ciprato inchinare avvenzione alberic dai che sono sti ma rumori no non mi dire c'è un nemico scappa 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 min ammazza per un spaccolo tutto patate scappa 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 andiamo l'indie andiamo l'indie andiamo l'indie andiamo l'indie non lo colpiamo mai questo uuuuuh mamma scappa ai cazzo e fa buono non ciappamo mai dai 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 sbaglio è preso troviamoci sbaglio ai ai sbaglio ricordo ricordo sbaglio ricordo sbaglio è preso cazzo si è curato dai 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 merda eh che cazzo dai 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 cosa lo ammazziamo dai 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 portiamoci dai che lo ammazziamo dai che lo ammazziamo dai che lo ammazziamo l'abbiamo ammazzato e vai che cosa ci dà questo ora invasore sconfitto lingua di provocatore l'armi nella lingua del volo è morto e poi il primo invasore ucciso bene adesso mettiamo il nostro nuova secondaria proiezione rocciosa e andiamo via da qui torniamo con le tempeste per andare a affrontare il nostro primo boss vediamo se riusciamo ad entrare andiamo andiamo scappiamo di qua via 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 evitiamo evitiamoli ok l'abbiamo evitati andiamo diretti verso il boss grazia perduta scoperta aumentiamo di livello e abbiamo aumentato il livello del nostro personaggio al livello cento settantasette ma non c'è il nuovo trucco ehi che bello è giusto guarda abbiamo andato dritti andiamo andiamo dritti ok giusta la strada sembra stare non c'è nessuno qua ecco qua il video guardiamo il video guardiamo il video per bene facciamo lo stesso in search of the elder ring emboldened by the flame of ambition someone must extinguish thy flame ok iniziamo la nostra prima battaglia via con la nostra nuova pregoneria già lo stiamo buttando giù vai 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 margitti presaggi per altri vai che lo spacchiamo subito a questo nooo porca troia porca troia porca troia porca troia porca troia no che rifacciamo ah tocca segno di evocazione adoro e che evocazione adoro evocazione alleato in corso oh ma tu ci vuole eccola qua stracone roger roger e entriamo dai 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 piirà 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 spaccdano appletto vai 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 uf dai che ce la faccio dai che ce la faccio dai 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 forza e macca poco vai vai dai morto 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 ed è morto e poi nemico potente abbattuto boss talismano mi ricorderò di te senza luce al dente di tripe fiamma c'è di il terrore della notte le mani del presoggio progave non ci concederanno tregua ok adesso possiamo andare avanti allora dobbiamo andare di qua allora saliamo qua sopra castello di gran tempesta allora la breccia dice di andare per di là boh per di là lecce oh comunque andiamo avanti ti 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 ah un altro luogo di grazie nooo 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 parla senza luce, giusto? senza luce, prima di poi gli balletti sai parla, la porta principale, perchè? assolutamente provate a questo passeggio, mi guardi che ignorano è nel castello che non so non c'è problema, la loro evidenza è incompensibile oh no, andiamo dalla porta principale vediamo perchè c'è la sconsiglia abbiamo un'ora potentissima la porta, apri la porta mica cazzo aveva ragione il tizio aia chi cazzo è? Mannaglia da miseria Guardi 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 Guardiamo guardiamo minchia Guardi 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 Eppala Taglia Faccavolo tutto Lo sappiamo Lo sappiamo Via Ti 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 Facciamolo avvicinare tutti Facciamolo avvicinare Cazzo Una bomba Eeeh Facciamolo avvicinare Ahahahah No no Ok 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 Amore Eeeh Cazzo 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 Aia! No vedi qua! Ma ancora! Non è qua tu andavi! Vincia! Cazzo, 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 scappa, scappa, scappa! Vai, 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 vai! Mia, che cazzo è? Un leone! Aia! Aia! Eh, baffanculo! Pieda di sangue animale, vecchia zanna! Ok. Facciamo un giro, vediamo se ci troviamo qualcosa di interessante. Ehm... C'è niente. Ok, mi voglio qua. Iiii! Uff! Mamma! Wow! Qua c'è... Ok, ma andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Allora... Allora... Mmm... Talismana del drago... Volgolante... Wow! Talismana! Ma cazzo... Uff! Che cazzo sono ste cosi? Quale tempesta? Che sono sti giganti? Mincia! Siiii! Patate! Hai un patate e pasta gialla! Siii! Nooo! 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 Scappiamo! 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 Nooo! Sì! Tutto fuori sui giganti! Guarda! Va 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 va! E' caduto! E' caduto! E' caduto! E' caduto! Ultima colpa! Ultima colpa! Eh vai! Fuori uno! Ci sono altri due! Nooo! Va vai vai, scappiamolo! Eeeh! Oh liscio, preso, 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 vai preso, vai, fuori anche il 2, ne aggiungiamo anche il terzo. Sce alla balda del golem, venga, 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 venga. Dai dai dai, belle, ci ha preso , che freccia? Putti detto Underbra, mattina%, vai vai voi. cazzo voi va vai vai e anche te si è fatto fuori merdaccia che cos'è sto coso? portale esamina raggiungo un'altra testa di certo dove andiamo? ecco lo andiamo enorme cancello ah dall'altra parte del ponte ma buono torniamo indietro per vedere si siamo dall'altra parte del ponte ok non mi piace questa situazione cazzo ci attaccano affanculo no a me che ci sono altri giganti no per favore siamo senza mana via non ci ha fatto un davi zampa di gallina se no ok eh tutti uccellacci ci sono torniamo indietro dai apriamo quel portone sperando che non c'è qualcuno indietro quel portone di forte di molto ma molto forte penna siamo senza mana siamo senza mana ci siamo arriva la torre divina dice porchi te i passaggi non affanculo va tutto tutta questa strada per niente è bloccata è bloccata è bloccata è bloccata non tornava indietro allora te non tornava indietro ma no mi sono dimenticato il coso il luogo di grazia di qua porca troia nooo ora le presentano tutti i boss ok 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 vai 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 sblocchiamo il luogo di grazia prima di ne fare una buttapine un'altra volta ok riposiamo ci ricarichiamo un'altra volta tra le rampolle ahhh che cazzo non era d'arrivo non è che ok prendiamo quest'altra strada affanculo morite basta via 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 ok prendiamo quest'altra strada saliamo saliamo nooo pure qua cimelle ed esplodono porca troia guarda tu dai non moriamo ma che cazzo è davvero difficile è davvero difficile qua ora nooo già pie no curiamoci no ce n'è un'altra parola pigelo 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 nooo manca dove ti andavi maledetti paledetti no 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 ha la ragione vero il prigioniero che è difficile tch 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 morto vai fessi siamo fessi si consumiamo via fa un po' torcia dove andiamo ora dove andiamo cavolo che va buono qualche strada andiamo di qua cazzo si ma siamo ancora morite via ma siamo a questo si vai no 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 ok dove dobbiamo andare? mi sta ammazzando tutti ma... si prendiamo in chimo a borsa no aspetta ok andiamo di qua cosa c'è qua? e lo fungo lo fungo lo fungo lo fungo muori 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 Cos'è qua? Un quadro Esamina? Ragazzuoli dopo aver scoperto questo dipinto Il video a malincuore finisce qui E alla prossima puntata Ciao